Un grande evento che vivremo insieme all'Open Space del Campo, a Vincinella, questa domenica, domenica 3 dicembre, perché alle ore 16 avremo tra noi due campioni, Bundu e Bellotti, che verranno proprio a introdurre, a presentare ai ragazzi ospiti in questa comunità questo progetto che li vedrà invitati evidentemente a vivere un momento di sport attraverso la tecnica del pugilato, dove ovviamente detta così può sembrare che stiamo addestrando, preparando giovani alla guerra o a fare delle cose cattive, invece il senso di questa iniziativa, peraltro davvero presa con buona volontà di chi ci dà la disponibilità, quindi di allenatori, di persone che possono preparare adeguatamente questi ragazzi, e appunto vuole essere invece un modo con il quale offriamo loro un modo per confrontarsi proprio su quei temi che sono fondamentali e per la vita in comunità attuale, ma anche poi per un domani, che sono appunto il rispetto, il senso della comunità, il senso del sacrificio, come ogni sport induce a vivere e anche ad approfondire. E soprattutto vuole essere un modo con il quale la disciplina, lo sport in questo caso che viene proposto, offre, vuole essere un modo con il quale anche avere una chiave di lettura, un po' come il Papa ha detto, anche di quelli che sono quelle fatiche interiori, quelle dinamiche sicuramente non facili, che questi ragazzi hanno passato anche nel loro tragitto dalla Libia fino a qui, e appunto attraverso lo sport vuole essere un modo con il quale offrire uno strumento per poter leggersi dentro, per poter leggere le situazioni e, ripeto, nell'ordine, nel senso della disciplina e dello spirito di sacrificio e di impegno, possa anche essere magari un modo con il quale adeguare anche lo stile di vita, magari un po' impreciso, forse a volte dato un po' anche dall'emergenza, un po' così senza programmi, invece con quello che è uno stile, direi, con punti abbastanza prefissati e davvero stimolanti, come può essere appunto una pratica sportiva. Quindi l'appuntamento è, per chi può evidentemente, domenica all'Open Space del Campo, che è nella zona vincinella, appunto a Santo Stefano, dove ci troveremo insieme per vivere questo momento che ha un titolo davvero bello, un pugno al razzismo.